La conversione della sanzione disciplinare in lavori socialmente utili, mi sembra una buona cosa, però bisogna non impariate, perché poi anche da grandi si può fare queste cose, ma è meglio non farle. Però potrebbe essere un'idea, se ne parla. Allora, loro fanno parte del consiglio dei ragazzi, quindi queste sono tutte cose che ora loro discuteranno nel loro riunione, poi faranno la giunta, c'è la giunta e quindi emergeranno tutte queste. E quindi verranno fuori tutte queste cose, per rendere un pochino attiva e... Mi sembrano tutte buone cose... Quindi, insomma, voi organizzatevi e poi facciamo sapere tutto. Ah, facciamo una cosa. Vi organizzate, discutete, trovate e poi o venite voi da me o vengo da voi e ci vediamo un giorno così, invece di scrivermi e poi una cosa burocratica. Vengo, prendo nota io delle cose e poi... Altre richieste però? Altre richieste al momento? Niente della scuola che di usare sia il campionale qui che il prato accanto per giocare a calcetto oppure per fare dell'attività insieme... Ah no, lui no! Lui è il sindaco del 2021... Era lui l'attore? No, allora te... Lo so, lo so... No, allora... No, io...